Tra dieci giorni in piazza Santo Antonio, gli amanti dei vari tipi di caffè, perché insomma tra le varie miscene possiamo fare quanti che vogliamo, arriva Trieste Coffee Festival, la prima edizione, tutti i caffettari che vi è venuta in mente questa idea o qual è un po' lo scopo? Sì, l'iniziativa è partita dall'associazione Caffè Trieste, l'obiettivo è quello di promuovere il caffè a livello culturale in tutti i suoi aspetti, quindi ci sono diverse aziende triestine che fanno parte di questo progetto, ci sono anche aziende che non sono triestine che però credono in Trieste come città del caffè e hanno creduto nel progetto. Ci saranno eventi, workshop, insomma sarà un bel evento rivolto al pubblico che va a completare quello che è invece l'evento B2B che è il Trieste Espresso Expo che invece si svolge i tre giorni precedenti, cioè dal 23 al 25 ottobre, per dare ricchezza e completezza e molti contenuti a una città che di caffè vive da quasi 200 anni. La scelta di andare in piazza Sant'Antonio è per avvicinarsi un po' più alla gente perché se non sbaglio l'altro appuntamento è così in stazione marittima se non sbaglio? L'appuntamento della fiera è al Porto Vecchio in un nuovo spazio che verrà allestito, beh la piazza Sant'Antonio è un collettore molto importante e storicamente anche la sua valenza dal punto di vista commerciale perché proprio alla fine del canale dove nei primi del Novecento giungevano velieri e quant'altro per portare merci alla piazza Sant'Antonio che era una piazza commerciale. Senti, adesso la domanda giusto così, visto che forse magari riesci a toglierci questa curiosità, almeno mio personale ma non credo solo mia, perché a Trieste il cappuccino è una cosa, in Gio per l'Italia è diverso e viceversa? Ma qui non so rispondere nello specifico a questa domanda. Come l'uovo e la gallina, no? Sì, di sicuro c'è una grossa influenza austriaca in questa città che in altre città non c'è, che sicuramente ha contribuito a dare una sorta di lista di caffè che in altre città italiane e europee non si trova. Quindi la nostra peculiarità è probabilmente dovuta alle nostre tradizioni austro-ungariche e asburgiche. Quindi 25-26 ottobre, non ce ne vogliono gli altri bar, andiamo a fare un saltino, a degustarci un caffè lì e magari anche informarci su qualcosa di più del caffè, perché tante volte bevi e non sai neanche cosa bevi. Esatto, per due giorni facciamo parte di questa festa sul caffè che coinvolgerà tutta la città.